...da record con un'unica grande arcata di 231 metri di ampiezza. Dal ponte si raggiunge il nucleo storico di Catanzaro, concentrato su tre colli a 300 metri d'altezza. Qui, nel marzo 2008, ha aperto i battenti il Museo delle Arti di Catanzaro. Le esposizioni nelle sale del Marca uniscono passato e presente, storico e contemporaneo, a cominciare dalla collezione permanente del Museo Provinciale, con capolavori e dipinti degli ultimi cinque secoli. Immancabile un omaggio all'artista catanzarese Mimmo Rotella. Nato nel 1918, Rotella è considerato uno dei più significativi artisti del XX secolo. Artefice di un successo che ha valicato ampiamente i confini nazionali ed europei. Ma l'attenzione per il contemporaneo si respira anche alla luce del sole, nel parco della biodiversità mediterranea. In questo rinnovato polmone verde della città trovano posto non soltanto animali e piante, ma anche installazioni artistiche come L'uomo che misura le nuvole, del belga Jean Fabre. Arte e natura si fondono come due elementi di un'alchimia, dando vita a un mondo più vasto attraverso il rapporto tra artificio e realtà. A prestare la loro arte sono nomi noti nel panorama contemporaneo internazionale, come Tony Craig, Anthony Gormley e Mimmo Paladino, accanto alle opere scultore e di artisti locali. Grazie a tutti i nostri spettatori e di artisti locali. Il peso culturale di Catanzaro ha radici lontane, che trovano un simbolo nella storia del Duomo. Ricostruita dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, la chiesa è l'ultima erede dei luoghi di culto che svettano sulla città fin dal Medioevo. Poco lontano, il centro storico, spicca la mole ondulata del teatro Politeama, altro cuore pulsante della promozione culturale cittadina. Nel punto più stretto della regione, una trentina di chilometri separa Catanzaro da entrambe le coste calabresi. Lungo il litorale ionico, il viaggio prosegue ancora più a nord, dove nuove scoperte non tardano ad arrivare. Grazie. 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 Grazie.